Chi ci segue mi avrà sentito dire molte volte che non esistono brutte voci, ma solo voci usate male. Questo significa anche, da un certo punto di vista, che non esistono nemmeno belle voci, o no. E oggi partiamo da una testimonianza autorevole di Franco Fussi, che è un importantissimo foniatra, che insieme a Silvia Magnani ha scritto un libro che si intitola Ascoltare la voce. Ben trovati, questo è Mettiamoci la Voce. Io sono Maria Grazia. Io sono Francesco. Io sono Sandro. E io sono Valentina. Ormai ci abbiamo preso gusto con il farla giusta. Ormai sì, andiamo in linea, andiamo in linea. Abbiamo ancora ogni tanto qualche problema con la sigla. Parti. Colpa mia, cambiamo modalità ogni due per tre, perché oggi siamo di nuovo da remoto, non siamo più in presenza. Quindi ogni tanto io regista. Sandro regista si perde a favore del Sandro podcaster che deve parlare, per cui si distrae. Come Stanis, un po'. Leggendo questo libro mi è venuto subito in mente il nostro claim, perché leggendo un pezzetto di questo libro mi è venuto subito in mente il nostro claim. Quindi come diceva Maria Grazia non esistono brutte voci, ovviamente anche sul non esistono belle voci, perché un paragrafo del secondo capitolo titola L'eufonia è sempre relativa. Vi leggo giusto due righe e poi ne parliamo insieme. La voce individuale non è considerabile come un oggetto ponibile sul terreno dell'essere tra altri oggetti simili. Non è mai realistico e mai corretto un confronto della voce con altre voci. La voce umana va per così dire sempre colta nel suo contesto privato. Una voce non è buona, cioè eufonica, in quanto presenta qualità stabilite a priori. L'eufonia non è data prima che il nostro orecchio percepisca e il nostro occhio veda. Non c'è eufonia assoluta se non eufonia per quel paziente, cioè miglior segnale producibile in quelle condizioni biologiche. Esistono tuttavia condizioni specifiche che fanno voce una voce, rendendo l'individualità oggetto. Si tratta di requisiti irrinunciabili all'interazione comunicativa quando questo avviene mediante il canale uditivo verbale fonatorio. Per poter parlare di eufonia, al di là delle qualità del segnale di un dato paziente, devono preesistere infatti delle condizioni che sono udibilità della voce, intelligibilità delle componenti linguistiche, adeguatezza prosodica, sia nel senso delle capacità di produrre intensità e frequenze medie corrette, sia nel senso di poter variare tali valori in relazione alle esigenze intenzionali e sopra segmentarie della comunicazione. E prima di entrare nel vivo dell'argomento faccio solo una notazione molto breve sul fatto di quanto sia più complesso leggere all'impronta testi di natura saggistica o comunque informativa rispetto alla narrativa. Perché… Ho letto di merda? Non voleva essere così. No, 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 io non volevo assolutamente essere, anzi, però… Non si poteva dire leggere. Ok. Scusate, non potevo dire leggere? No. E anche di… Ma l'ha detto corretto, non l'ha detto leggere, ha detto leggere. L'ha detto corretto, l'ha letto bene. L'ha letto bene, ecco la… Bene, buono, e… Uh, adesso rubo il mestiere a Francesco. A proposito di buono, esatto. Che ama le etimologie. No, ma non è tanto perché amo le etimologie quanto perché amo… No, no, ma è una battuta ma anche no, nel senso che… Volevo sottolineare il fatto che comunque nel concetto di eufonia c'è la radice di buono, non c'è la radice di bello, capite? Esatto. Non è diverso. Non è un fatto estetico. Perché può essere un termine… Sì, può essere un termine un po' criptico, no? Eufonia, cosa sarà questa? Anche criptico può essere un termine un po' criptico. Difficile, ecco parliamo, o come parlano, difficile. Beh, in realtà è semplice, nel momento in cui, come sempre, se si hanno i codici per tradurli, è semplice. Eu significa, vediamo dal greco, buono, fonos, fonia, relativo al suono. Suono, buono. Nel nostro caso, appunto, suono della voce. L'asterisco dovuto è che qui stiamo parlando di un trattato scritto da foniatri, quindi stiamo parlando proprio di un trattato di foniatria. Però il concetto lo facciamo nostro. Esatto. La nota iniziale era solo per dire che come interesse, visto che il nostro interesse di base è, tra gli altri, la lettura espressiva, la lettura a voce alta e ci occupiamo anche di lettura all'impronta con i circle reading, notavo solo quanto sia più difficile essere efficaci in prima battuta con una lettura all'impronta su un testo di quel genere. Stai mettendo il tito nella piaga. Io ti ricordo che Giulia Celi, ciao Giulia, ci ricorda che per il bonton è buona regola fare finta di nulla, quando qualcuno commette un errore, andare avanti lì, dice no tu ci torni anche. Certo, certo cara, era proprio il caso, no anzi, però bene per la lettura, però questo esula dal tema di oggi, ma è sempre, quando leggiamo poi siamo sempre anche in doppia modalità, perché siamo sempre anche persone che lo insegnano nel momento in cui leggono e viceversa persone a cui piace leggere e ascoltare. Ma torniamo, grazie Maria, grazie, grazie, perché siamo diventando imbarazzanti. No, la cosa secondo me importante è che poi logicamente, come dicevi tu, è un trattato e si sente nel linguaggio che viene usato, nelle modalità, no? Però i tre parametri che tu leggendo citavi sono invece molto basici, no? E' anche materia delle nostre concioni didattiche molto spesso. Assolutamente. Perché riassumiamoli un momento. Esatto, riassumiamoli. Allora, anche udibilità della voce. Quindi. Se deve sentire. Quanto noi facciamo, tiriamo fuori la voce e come, mi viene da dire, la tiriamo fuori anche. Intellegibilità delle componenti linguistiche. Famos e capì. Famos e capì. Articolazione, dove dentro, se volete, potremmo, dato che ci piace tanto la, no? Le etimologie, le cose, potremmo dire dizione, solo che poi questo porterebbe fuori, perché dizione si pensa subito all'ortoepia, ma invece dizione è il dire, no? Diciamo dizione e poi piuttosto teniamoci disclaimer, però diciamo dizione. Quanto parlano bene questi ragazzi, questi giovani. Disclaimer, il nostro claim, no? Bravi. Però il dire, e quindi l'articolazione, la capacità di essere, no? Di essere chiari, di essere udibili. E il terzo punto è l'adeguatezza prosodica. Qui c'è tutto quello che noi chiamiamo, tra virgolette, la tecnica, no? Quando ai nostri allievi, diciamo, ci sono determinate regole che vi passiamo, che poi potete in qualche modo fare vostre, in parte, totalmente, ancora di più, che lì andiamo a sconfinare, non a sconfinare, ma a raggiungere l'obiettivo, cioè l'efficacia dell'uso della voce, nella lettura, ma anche non nella lettura, insomma, nel parlare. Perché questi tre punti sono… Sì, specifichiamo solo una… perché c'è rimasto un termine, l'ultimo, prosodia, che magari non è facile per tutti. Prosodia è il come, lo diciamo. La semantica è il cosa, diciamo, diciamo, buongiorno, significa un saluto semantico. La prosodia è come lo diciamo, come dire buongiorno, buongiorno, sono suoni diversi, pros vicino al, ode al dio. E anche qui mi scatta un attimo il distinguo, perché quando noi parliamo di tecnica, poi si viene a stratificare tutta una serie, non dico di luoghi comuni, ma comunque di preconcetti, no? Concetti che vengono prima, e cioè, ma sì, ma a me che mi importa? Io mica faccio l'attore, mica faccio l'attrice, non leggo audiolibri. No, l'uso della prosodia, cioè di tutto quello che riguarda… Il come lo diciamo. Il come, esatto, riguarda tutti noi, se non stiamo in una caverna, cioè a dire se comunichiamo. E attenzione, sia dal punto di vista attivo, quando noi diciamo in un determinato modo una cosa, ma sia anche dal punto di vista passivo, quando riceviamo una voce che è a seconda della musicalità, pros odia, pros vicino, ode il canto. Cioè, come me lo dice questo? Mi vuole fregare, ad esempio, il meccanismo di difesa. E lo capiamo dall'udibilità del suono vocale che ci sta arrivando. Oppure, mi fido, è una voce calda, è una voce che mi rassicura. Questa, la differenza, la fa la prosodia. E per quello che parlare di belle voci non ha senso. Non ha senso. Perché sono altri, semmai, gli aggettivi, no? Anche perché qui parliamo di adeguatezza prosonica, non parliamo di bellezza, di prosodia. Esatto, esatto. No, no, infatti, 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 come me l'ho detto, è stato, se vogliamo, efficace, ma efficace è troppo riduttivo. Sì, efficace è riduttivo, perché poi l'adeguatezza rende meglio, forse, perché è proprio la fratellanza, la comunanza fra quello che diciamo e come lo diciamo, no? Ora, l'esempio che portava Francesco, è magari estremo quello che ti vuole fregare, però ti intorta con una serie, appunto, di tratti della vocalità che sono, però, è un'esperienza che tutti noi abbiamo fatto nella vita. Assolutamente una volta. Ci aggiungerei, se capisco bene, un elemento fondamentale, però, quello del contesto. Perché il tutto legato al contesto di ascolto. Certo. Perché la stessa identica prosodia e la stessa identica udibilità, la stessa identica intellegibilità del parlato in contesti differenti, ha significati differenti. Per cui, da una parte, da una parte mi vuole fregare, dall'altra parte è come stiamo bene insieme, perché magari è invece una modalità molto intima di parlare e molto amicale. Sì, pensiamo all'ironia, no? No, ironicamente, ma anche amichevolmente si fa. È che l'intellegibilità... A volte ci si manda a quel paese addirittura, ma se il contesto è quello giusto, sì. No, è che l'intellegibilità, secondo me, è un valore che spesso viene bypassato a favore, invece, dei tratti prosodici, ma non ci stanno questi. Se la persona che si esprime, non è articola, non scandisce, non ha un volume adeguato appunto al contesto in cui parla. Cioè, e anche nei tratti prosodici, quel che a volte io dico anche, soprattutto agli allievi attori, è inutile che voi studiate per bene tutta l'ortoepia e usiate le occhiuse aperte, perfetto, ma le mettete in una musicalità che tradisce il dialetto, allora non funziona, no? Perché è tutto un po', come dire, da considerare come un unicum, trovo. Certo, ma di fatti questi tre punti, questi tre valori che ci vengono portati all'orecchio attraverso questo elenco, in realtà poi fanno parte della didattica della voce. Sono comunque correlati anche al nostro stesso metodo adagio, in realtà, nella forma e nell'ordine. Sì, 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 assolutamente. Ma appunto mi veniva anche da considerare l'aspetto divertente che mette in sicuro, anche solo a partire da questi tre punti, si mettono insieme aspetti di reazione immediata del cervello ad aspetti di mediazione culturale. Cioè, se noi non sentiamo bene qualcosa, di base non ci piace. Cioè, la prima reazione è, no, non mi piace. Dall'altra parte, la prosodia invece va molto nell'ottica anche di quello che ci suona a livello culturale, a quello a cui stiamo abituati e quello che a livello della società in cui viviamo diventa un significato di qualcosa, diventa simbolo o comunque diventa significato di qualcosa. È bello questo doppio aspetto, perché ci permette anche di considerare che lavoriamo su piani differenti. Uno, di reazione immediata dell'amigdala, quindi di subito mi piace o non mi piace. E un altro invece di significati che si vanno a stratificare a livello culturale successivamente. Assolutamente, ma in realtà secondo me lavoriamo anche a multilivello, perché al di là della reazione e poi dell'inquadramento nel contesto culturale ci sono tutta una serie di altre attivazioni che la voce ci dà e che poi influenzano ad esempio banalmente il ricordo dell'esperienza, l'apprendimento, perché ricordiamoci che la componente uditiva dell'apprendimento è estremamente chiamata in causa ed è estremamente influenzata dall'eufonia a tutti gli effetti della voce che ci sta insegnando qualcosa, perché un contenuto posto attraverso un'errata, una scorretta, comunque un'inefficace, in questo caso sì, inefficace modalità prosodica, molto probabilmente non ci rimarrà in testa. Quanto più ci ricorderemo il fastidio di quella voce che ci stava dicendo quelle cose o la noia della voce che ci stava dicendo quelle cose, ma perdiamo completamente il contenuto. Eh sì, questo dal punto di vista di chi ne fruisce. Dal punto di vista di chi attiva invece la comunicazione, io direi che un'altra lancia da spezzare insomma è quella rispetto alla difficoltà, perché tutto è facile e tutto è difficile, se vogliamo essere un po' banalmente filosofici. Dico questo perché a volte, proprio rispetto all'aspetto prosodico, chi si approccia per esempio alla lettura espressiva, pensa in termini di sforzo, in termini di molto da fare, molto da… Da un lato posso capire che il mettere attenzione su qualsiasi argomento, magari prima mai trattato, preveda un'attenzione particolare, finché poi non si macinano un po' le cose, non diventano abitudini. Però è anche vero che per restituire una lettura variata, un discorso accattivante eccetera, basta poco, non so se mi spiego, le variazioni tonali che tanto spaventano, i toni, cambia i toni, oh mamma mia come faccio, ma in realtà, come dice sempre Francesco, nella vita lo facciamo tutti i giorni e alla fine cos'è che dobbiamo forse imparare veramente? E' ad affrontare questa esperienza della lettura, della recitazione, del public speaking, come il frutto di un allenamento, trovo, su alcune componenti, per poi scoprire che basta veramente molto meno di quello che noi pensavamo, insomma. Assolutamente, mi viene in mente il concetto di trovare lo spazio della propria voce, quindi imparare a stare nella propria voce, che poi è secondo me la componente, come dire, è il fil rouge che collega tutto, perché una volta che facciamo così, faccio un passo indietro, se affrontiamo l'educazione vocale e l'utilizzo della voce come una performance o come una materia da imparare per la quale verremo valutati e dovremo essere adeguati ad un certo livello di qualcun altro, stai fresco che riesci ad affrontare le cose con naturalezza, così come se ci diciamo, devi essere naturale, cioè per l'amore di me. Tutto deriva secondo me dal trovare se stessi all'interno della propria voce, quindi nel riconoscerci, nel rimparare a stare nella nostra voce e capirla, ascoltarla per davvero, perché le regole ci sono, ma conoscere le regole non significa dover aderire e diventare tutti la stessa cosa, suonare tutti nello stesso modo, parlare tutti nello stesso modo, significa trovare il proprio spazio abitativo all'interno di quel sistema, di quelle regole. Un'altra cosa molto interessante, questa cosa che tu leggevi prima, in questo libro, del fatto che non ha senso il paragone, insomma, il rapportare una voce a un'altra voce, questa è una cosa che bisognerebbe davvero dire, come dire, quasi per prima ancora di passare delle abilità tecniche. Assolutamente. Farsi prima due domande, è chiara? Sì, ed è comprensibile. Prima ancora di quello, secondo me c'è proprio un discorso identitario da affrontare quando si lavora con la voce, per questo io mi imbufalisco quando vedo che la voce viene trattata con sufficienza, come se fosse una cosa che sì, vabbè, diciamo due cose tanto per dire a proposito di... No, perché la voce è un fattore identitario, è quasi psicologico lavorare sulla propria voce, è un percorso davvero, che lo dico, è una parola che tanto non mi piace, è un percorso di crescita personale, imparare a stare nella propria voce e usarla in maniera completa e autentica. Quindi è impossibile pensare di insegnare la voce come uno standard a cui ti devi adeguare oppure no, non è possibile pensare di mettere dei metri di paragone o dei livelli a cui tu devi arrivare, quindi devi suonare come quella persona lì, devi parlare come quella persona lì. No, la voce sei tu, c'è la tua identità lì dentro, ci devi essere tu, devi suonare tu per come sei. Con questi quattro trucchi avrai una bella voce. Eh sì, ma... Arriviamo a quello. Eh sì. Arriviamo da una parte, arriviamo a... Vabbè, ti bastano tre trucchi, tre segreti da fare, da mettere in pratica per avere una bella voce, che quindi significa che da qualche parte esiste una bella voce e dall'altra il disinteresse totale rispetto all'argomento voce in sé, ad esempio con riferimento al come la usi. Cioè, il come la usi, vabbè, ma ti abitui, ti registri, va bene. Cioè, se fai podcast, ti registri e sei... va bene, ti abitui e sei bravo, dall'altra parte non sei un attore, per cui va bene, se non usi questo, questo, questo e questo attore, va bene perché non sei un attore. Ah, tanto non sei un attore, quindi l'addizione non ti serve. Va bene, va bene, ok. La prosodia, tieniti la musicalità della tua voce che va bene. Ok. L'essere, parlare a volume corretto rispetto al microfono, sì, vabbè, ma ci arrivi. Alla fine di che cosa facciamo? Vedi che in tutti questi tuoi esempi c'è comunque, ci sono comunque degli elementi che stonano con il discorso di autenticità nella voce, perché c'è comunque un classismo, tu sei questo o tu sei quest'altro, allora tu devi fare così e tu devi fare cosà. È già questo. Anche una rigidità proprio di applicazione. Assolutamente, e poi un giudizio costante, continuo, che per me è terrificante, ed è terrificante il fatto che non se ne parli abbastanza, come i professionisti dell'uso della voce delle volte si diano battaglia su quanto sia legittimo per te definirti in un modo piuttosto che in un altro, fare quella cosa piuttosto che fare quell'altra, ed è alla stregua di stare a fare le pulci a una persona perché ha un chilo in più o un chilo in meno, perché ha una quinta di seno, perché ha una prima di seno. Caspita, è la tua voce, la usi come la puoi usare. La usi bene, per l'amor di Dio, ma la usi come la puoi usare. Scusami, no, 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 finisci. No, dicevo, è proprio per me bruttissimo il fatto che venga costantemente minata la struttura identitaria della persona, anche attraverso questo. Certo, sì, ma infatti mi veniva in mente il discorso del metro di paragone, no, la modella e quindi devi avere quel fisico lì, allora il look, il vestirsi, non è più di moda quel colore, via, buttalo, devi vestirti di birulò perché quest'anno usa… però su molte persone purtroppo questo attecchisce, vuoi, per delle insicurezze personali, vuoi, per un discorso anche identitario, perché sulla voce ad esempio il fatto di, secondo me, di cercare di, adesso uso un termine improprio, ma imitare, no, comunque ispirarsi, lasciarsi ispirare, diciamo così, a una voce perché la riteniamo bella, ma magari quella voce è lontanissima dalla mia struttura di base proprio fisica, che è lo stesso discorso che comprare un abito perché l'ho visto addosso a una alta 1,80 che porta la 42 e a me farà schifo quel vestito lì su di me. Quindi forzare la mia voce in un canale che non mi appartiene, poi ha come ricaduta un'autovalutazione ancora più negativa e quindi diventa poi un vortice, invece quello che dicevi tu è veramente fondamentale, cioè è un fattore identitario, facciamo un po' la pace con il colore dei nostri occhi, con il nostro peso, che non vuol dire l'assismo oppure trascuratezza. No, 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 cercare la propria voce è un percorso di liberazione, non si tratta tanto di imparare delle tecniche, quanto invece di, al contrario, di togliere. Facciamo uscire la puntata del 25 aprile e così facciamo la liberazione vocale. Bravissimo Franci, perché questa cosa succede tantissimo anche nel canto, approcci il canto perché vuoi cantare come quella persona lì. Ora, se da un lato c'è un effetto straordinario nell'utilizzo di ciò che ci arriva dai neuroni specchio che comunque in parte interessano anche l'ascolto e quindi l'affonazione, ed è imitare è il primo modo di imparare a sperimentare con la propria voce, perfetto. Un altro è dover delineare le proprie caratteristiche vocali come carta carbone su quelle di qualcun'altro. Su un modello, su un modello, assolutamente. E questa cosa vale sia per il cantato che per il parlato perché banalmente, mi viene da dire, chissà quanti voice actor, doppiatori, speaker, eccetera, eccetera si sono sforzati, sto parlando in questo caso di maschi, si sono sforzati in questi ultimi anni per adeguarsi a questo modello stile Luca Ward che è stato richiestissimo, cercatissimo perché stereotipo vocale a quella è la voce profonda, maschia, sensuale. E quanto male ti fai quando vai a imitare un tono che non è tuo, stando in frequenze che non sono tue. Ma per andare in un regime di parità, quante volte magari invece per fare la voce un po' più sexy un po' più soffiata, quintalate di aria mentre parli e sta roba qui ti secca, proprio te le prosciuga le corde vocali e alla fine del tuo turno di lavoro sei devastata e dopo un anno che parli così che puoi sembrare la Uma Thurman di turno, adesso non mi ricordo come si chiama la doppiatrice di Uma Thurman che ha una voce che io amo alla follia, però poi tu che danni ti sei fatta. Torniamo un po' all'argomento dell'episodio scorso sulle sue eventuali caratterizzazioni o quantomeno sue eventuali abitudini che puoi prendere a livello vocale che poi possono a lungo andare crearti delle... Bravo, bravo, perché ricordiamoci questa cosa, al di là del fatto che sempre per il discorso dei processi di apprendimento per imitazione noi tendiamo a prendere i suoni, la voce, i timbri, i toni del nostro contesto di nascita e di crescita, quindi partiamo dal presupposto che già comunque abbiamo dei modelli di riferimento che noi andiamo a seguire crescendo, ok? Quando poi ci strutturiamo per imparare a parlare o a cantare come quella persona attiviamo quella cosa meravigliosa ma pericolosissima che è la memoria muscolare, quindi per il nostro cervello quello sarà il sistema normale di parlare banalmente, adesso non vi voglio citare ricerche perché non le avrei sotto mano e non voglio dare dati sbagliati ma se le trovo poi metto il link qui sotto, quando tu vivi un momento di disfonia per qualsiasi motivo, hai un problema alle corde vocali e parli in una maniera protetta, quindi comprometti il modo in cui parli magari parlando come sto parlando io adesso cercando di non andare a sforzare la voce eccetera eccetera, anche quando si è ristabilito il problema meccanico o patologico per cui tu hai parlato in maniera diversa, tenderai a mantenere parte di quel modo di parlare perché il tuo cervello l'ha registrato come normale, perché il cervello è un po' stupido certe volte, siamo abitudinari, siamo animali abitudinari, certo, sono dinamiche che ad esempio banalmente il pianista conosce bene perché nel momento in cui tu inizi a suonare un nuovo pezzo è delicatissima la prima parte quando tu cominci perché se lo impari in un determinato modo, poi dopo a tornare indietro, perché il tuo cervello muscolarmente, le tue dita è proprio non è che vai proprio su quel canale lì. E cosa succede a te pianista? Cosa succede a te pianista se ti faccio suonare un pezzo che conosci a mena dito ma ti do una tastiera che ha i tasti di un millimetro più corti rispetto al tuo piano? Memoria muscolare, non troverai quegli spazi, quelle distanze, ti incasini la vita. Perché poi diventa sempre il proprio strumento. Non è solo memoria muscolare ma è memoria procedurale, cioè noi impariamo a costruire movimenti complessi e registriamo l'insieme del movimento complesso per cui poi tutti gli allenatori lo sanno bene, smontare e ricostruire un gesto tecnico in un atleta, a maggior ragione se magari anche già adulto è qualcosa di difficilissimo e non sempre efficace perché il rischio è di smontare qualcosa che in quel momento stava già funzionando per costruire qualcosa che non ho detto che funzionerà perché non si è più abbastanza plastici per poter ricostruire un movimento efficace. Ma lo vediamo anche in fase di formazione, anche con Franci e MG, smontare e rimontare un gesto fonico. Purtroppo non mi ricordo il nome ma c'è un pedagogo dell'antica Roma che era famoso perché se prendeva un allievo da zero si faceva pagare un tot, se invece arrivava l'allievo che già un po' ne sapeva, che uno diceva allora ti fai pagare di meno, no si faceva pagare nel doppio e io dico ma perché? Perché io lavoro due volte, prima devo togliere quello che c'è stato prima ed è veramente difficile e poi dopo faccio il mio lavoro, quindi dopo lavoro. Che è anche un po' quello che viene contestato ogni tanto quando magari si fa formazione sulla voce si parte dal gesto respiratorio e la gente ti guarda come se fossi matta perché dici ma io respiro da tutta la vita, spostati, sì ma come respiri da tutta la vita, parliamone. Sì, per tralasciare di a me hanno insegnato in un altro modo, ma chi? Che ci sta, che ci sta perché poi in realtà questa che viene delle volte malinterpretata non è che ci sia una scuola migliore o una scuola peggiore a parte quando ti insegna qualcuno che ti insegna proprio cose sbagliate a livello di procedura, in realtà per come siamo fatti avere più punti di vista per apprendere una stessa cosa è fenomenale. E che molto spesso invece… Perché poi si fa la sintesi e trovi il tuo, il tuo canale. Ma invece molto spesso viene utilizzata questa cosa un po' dicotomica, no? Ah no, se è giusto quello non può essere giusto anche quell'altro. Se fosse così non sarebbe nato niente praticamente perché… Esatto, bisogna anche vedere come vengono tradotte poi gli insegnamenti perché a me hanno insegnato così potrebbe voler dire io mi trovo così. Io l'ho imparato così. Esatto, io l'ho imparato così o anche per alcuni casi, per alcune persone, questo in altri ambiti formativi mi è capitato di avere a che fare con persone che hanno delle profonde insicurezze, che non riescono a lavorare se non attraverso un controllo esasperato, perciò se tu dici che quello va messo a destra e quello va messo a sinistra o le puoi dare una martellata in testa, puoi tornare tu stessa a dirgli ma no, puoi metterlo anche un pochino più in centro e quella persona avrà bisogno di quel tipo di sicurezza. Poi ognuno di noi è un ecosistema a parte, quindi a maggior ragione stimolare l'apprendimento esperienziale anche attraverso altre esperienze è la cosa migliore da fare se vogliamo fare qualcosa. E lo citava già, Fussi insieme all'altra autrice che… Silvia Magnani. Silvia Magnani, negli estratti che hai letto, secondo me, parlando proprio del discorso sul contesto, cioè se dobbiamo essere in grado di essere abbastanza duttili, abbastanza non schematici da poter adattare quello che sappiamo fare o imparare cose nuove in funzione del contesto in cui siamo e che ci serve, perché la stessa indicazione data in due contesti diversi può essere totalmente… può portare a risultati disastrosi in un caso e ottimi nell'altro, stessa cosa si può ottenere lo stesso risultato in due contesti diversi dando due indicazioni diverse, per cui bisogna essere il più possibile flessibili. Stiamo parlando di qualcosa simile ad un'antifragilità vocale? Antifragilità vocale mi piace, contattiamo Nassim Taleb e vediamo se può essere d'accordo sul farci da padrino a questo concetto di antifragilità vocale. Spieghiamolo un attimo perché non tutti lo sanno. Allora, Nassim Nicholas Taleb, autore di svariati testi che poi hanno portato da, giocati dal caso prima, il cigno nero poi, hanno portato nello suo sviluppo di pensiero ad antifragile e antifragile è un libro dove l'assunto fondamentale è questo, che l'opposto di fragilità non è forza o resistenza, è antifragilità, semplicemente perché qualcosa di fragile rimane a un'esposizione, a un certo evento, rimane comunque fragile anche se è forte o resistente, mentre antifragile è qualcosa che va all'opposto, quindi si fortifica, migliora, ne ha dei benefici a partire da un evento traumatico, comunque da un evento che lo mette in difficoltà. E si discosta dal concetto di resilienza, che in realtà sarebbe una proprietà dei metalli, semplicemente perché la resilienza indica la capacità di ritornare nella stessa identica forma dopo uno shock, un evento traumatico piuttosto che un impatto, mentre l'antifragilità qui viene raccontata come una risposta evolutiva, quindi un miglioramento, un cambiamento. Mentre una parte del segno rimane uguale, per cui cambia semplicemente l'entità dello stimolo che serve per portare al punto di rottura, l'antifragilità nel concetto di Taleb è qualcosa che cambia il segno da positivo a negativo. Cioè in 20 minuti siamo riusciti a toccare tutta una serie di piccoli, piccoli argomenti, Anche il PNRR, cioè quindi ce lo buttiamo dentro. Ce lo stiamo giocando. Se si avanzano fondi del PNRR ditecelo. No, scusate. Vabbè, che dite? Ci siamo espressi. Sì, ci siamo espressi. Ricordiamo che... Così parlo Nardi. Così parlo Nardi, bellissimo. Ricordiamo che ci trovate sul sito mettiamocilavoce.it per conoscere ed eventualmente venire a trovarci in Academy nei nostri eventi, ma anche per coaching, per corsi personalizzati, soprattutto perché io e Maria, grazie, abbiamo delle cose in lavorazione che stanno per uscire, che sono mica male. E se passate da Genova, contattateci per prenderci un caffè. Assolutamente sì, se passate da Genova, fateci un fischio, ci facciamo una foto insieme, ci mangiamo un pezzo di focaccia, ci beviamo un caffè. Allora a presto. Focaccia e caffè a presto. Ciao. Ciao.